ciao a tutti da the face game questa è la nuova top 10 di call of duty modern warfare 3 a commentare qui per voi taylor rinnegan ma perché gesticoli quando parli allora al numero 10 c'è taylor no no non c'è taylor c'è merda crazy throwing knife signori dopo gli insulti perché sono gelosi non riescono a farla loro perché sennò siete scherzi ma non è che ci vuole bravura ci vuole un co hai detto tu che bisogna essere forti si bisogna essere no per me tu sei proprio bisogna essere forti ma se lo faccio io bisogna aver culo si esatto questo è il concetto se lo faccio a tiboli io dicevo bravo bravo lo sapevi il numero 9 c'è sample game fai che ha un canale su youtube che è andato andate a vederlo ci sono di quei robe assurde odia i droni odia i droni si vede chiaramente è proprio in campo da nero guardate tira la missiliata con lo stinger dopo averlo agganciato ma uccide uno più 150 più 150 il mister come si risolve il mister si risolve che lui voleva colpire il drone ma il missile è finito sul muro e uccide il tizio che si sta a spavare il drone fa rima con cojone no sape a scambia﹑ 얜?? no 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 oh certo cosa evita hai qualcosa di serio da dire cool numero 8 c'è il golden onatik che fa prima una quadrupla a cosi di vida 5300하죠 tutti gli vanno addosso mentre lui spara lui spara dritto ed e volete sui cold è un bel uomo vabbè cinque kill field bellissima culo è un qualcosa di 45 è un bell'uomo al numero 5 c'è The Italian Loser, andate anche nel suo canale che è veramente assurdo se no c'è anche un video in cui prende la MOAB si sono anche le paparaglie sono uno dei primi a farle uscire sono anche le paparaglie cos'è sta MOAB? è la madre di tutte le bombe, 5 uccisioni di fila col barile è la madre di cosa? cosa vuol dire MOAB? mother of all bombs ok ecco questo lo cancelliamo le bombe, le bombe al numero 6 c'è oh signore al numero 6 c'è Hick Steiger che allora tira il javel imperario, a caso a caso, dai c'è spiega la piedaccia dal punto A e quindi vabbè comunque è un 5 primo sangue e prende anche l'attacco aero poi si ferma perchè si è fermato si è buttato dalla finestra che cazzo ho fatto? non lo faresti? io mi esco nel paese e comincio a sfrare la rapida a dire guarda cosa ho fatto sono troppo forte guarda quanto sangue cazzo guarda quello con il riot shell come vola 5 primo sangue cazzo guarda quanto sangue che c'è qua aspetta aspetta per favore non faccio rischio sono deprimente si al numero 5 c'è Mitra Matri Tata che fa WTF 10 keys allora ma cosa stai dicendo? ma cosa cazzo stai dicendo? WTF 10 keys guardate 4,6,10 assurdo come conti tu scusa? 4,6,10 io conto il multiple di quello che mi pare ah ok al numero 4 dai multiple di quello che mi pare al numero 4 c'è dato 3 modi per uccidere free ways to kill per me è un idolo cazzo cambia ogni volta si lui uccide uno così poi uno col c4 poi cambia butta via il fucile butta via il fucile kill confirmed ecco e tira il javelin così a caso ormai il javelin di questo gioco è una costante ma è felissima è felissima però ho tutti con triplo triplo a prendere Predator Missy quindi c'è Kino c4 e javelin poi al numero 3 c'è overcrash guarda quanto il nesquick fa sto qua cosa fa? nesquick ah no no si chiama quickscoop però ho sbagliato scusate quickscoop the tripline nesquick ragazzi mamma mia oh con la ma con latte se avete altri nesquick o latte ce li inviate sempre sul sito ok perfetto e magari con un biscottino vabbè al numero 2 c'è A0 Antox e come diceva Johnny Crick con i parallucci allora guardate I'm ready for mv3 l'ha intitolata lui così guarda lo headshot è drogato non è normale o ha il joystick modificato questo non è un computer no? no è col joystick con la playstation è col joystick ah va bene il joystick è una console ah al numero 1 xdare cinema anche lui ce l'ha passato dal canale YouTube allora guardate spara a caso quickscoop a caso se gli passava un cazzo ho detto con l'msr non è un caliber questa volta mamma mia tripla headshot tripla headshot 3 uccisioni con un colpo in testa in Nesquik mamma mia oh mamma mia una colazione è abbondante una colazione abbondante una colazione abbondante una colazione abbondante vabbè se il video non vi è piaciuto cliccate su mi piace continuate a iscrivervi al nostro canale seguiteci su Facebook il link è nella descrizione per favore guardate il video del canale del merda ciao a tutti